Qui abbiamo notato due elementi fondamentali, la perseveranza della famiglia andare avanti e l'assenza totale e permanente da parte dello Stato, al quale abbiamo più volte noi sollecitato un intervento sempre disatteso e la famiglia ha dovuto pertanto farsi carico lei di poter andare avanti per arrivare a un senso di giustizia, più che altro è quello che abbiamo ottenuto oggi. Sono passati 17 anni da quando il giovane vigile del fuoco Simone Mazzi aveva solo 29 anni, perdeva la vita nel derupo che vedete alle mie spalle, dopo una lunghissima battaglia in sede civile la famiglia ha vinto e adesso ci sarà un risarcimento. Secondo la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di Firenze il Ministero fornì un autogru difettosa Mazzi perse la vita durante le operazioni di recupero di un autotrasportatore uscito fuori strada a Palazzo del Pero finito nel greto di un fiume. Nel calare appunto questo gancio a cui venne inizialmente attaccata la barella Toboga e con il vigile Mazzi questo filo si spezza, questo gancio si stacca e purtroppo colpisce alla testa Simone Mazzi. In sede penale ci sono state tutte assoluzioni ma la famiglia non si è resa ed è andata avanti oggi questa è una vittoria anche per tutto il corpo dei vigili del fuoco. Simone Mazzi era uno dei lavoratori ma sono tanti Simone Mazzi dentro i vigili del fuoco, dentro i carabinieri, dentro i corpi dello Stato che forse un po' più di attenzione, un po' più di cura per quanto riguarda la strumentazione che viene messa a disposizione dal datore di lavoro sarebbe importante per ciascuno di questi personaggi che lavorano in settori così delicati e che sono diventati eroi in tante occasioni.